La confluenza del luminoso Crati con lo scuro Busento iniziarono a radunarsi i pastori di stirpe italica. Rendendo grazie alla Dea Fortuna, con Augusto Imperatore, Cosenzia è tornata prospera e libera. Attirati dal miraggio di un tesoro nascosto, molti in ogni epoca si sono interessati alla mia sepoltura. Molti sono venuti sul Busento a scavare. La filosofia di Bernardino Telesio, il mio pensiero, è in sospetto d'eresia. La mia Calabria è stata una meta ambita all'epoca del Grand Tour. Sono moltissime le testimonianze dei viaggiatori che hanno compiuto in Italia il loro viaggio di formazione. La mia Calabria è stata una meta ambita all'epoca. La mia Calabria è stata una meta ambita all'epoca.